Musica Musica Amici di Otto Channel ben ritrovati e benvenuti al primo appuntamento con Nella Tana coi lupi. La rubrica dedicata alle interviste in esclusiva dei tesserati e dei calciatori dell'US Avellino e noi siamo felici per la prima puntata di avere con noi Salvatore Andrea Molina. Benvenuto Salvatore. Grazie mille e buonasera a tutti. E partiamo Salvatore proprio dal tuo nome, Salvatore Andrea, perché da dove nasce questo nome che ti hanno assegnato, la tua famiglia è deciso per te? Beh, come si può ben sapere, Salvatore è un nome meridionale, quindi come la gran parte dei meridionali ho preso il nome da mio nonno. E invece Andrea, perché nonostante fosse il nome di mio nonno non era così ben gradito, cioè non è che facesse impazzire a tutti. Quindi mi hanno detto, se poi da grande vuole farsi chiamare con un altro nome che è Salvatore non gli piace, mi hanno messo Andrea. Salvatore, tu sei uno dei 13 volti nuovi dell'Avellino, uno degli acquisti della campagna estiva di calciomercato, 13, 17, andiamo subito con un pizzico di scaramanzia, 17, il tuo numero di maglia. Un numero che a te poi è da sempre caro, non solo da questa stagione con la maglia dell'Avellino, perché l'hai scelto? Forse anche dopo un'annata caratterizzata da diversi problemi che fortunatamente ti si è messo alle spalle. Sì, il 17 quando ho potuto l'ho sempre preso. Ovviamente le poche volte che ho cambiato a gennaio non era libero, mi sono dovuto adattare, però come ho detto poc'anzi, se è libero, tendo sempre a prenderlo, perché è il giorno che è nata mia mamma ed è il giorno che è nato un mio grande amico che purtroppo non c'è più. Salvatore, sulla tua indisponibilità si è detto tutto e il contrario di tutto. Allora, quale migliore occasione per chiarire questa tua stagione annata travagliata per via di questo infortunio? Facciamo chiarezza. È stata un'annata molto faticosa, soprattutto a livello mentale, perché quando non si riesce a capire il problema da dove deriva, le cure da fare è davvero pesantissimo a livello mentale. In poche parole, più semplice di quanto sembri. Tu dici un anno fermo ha distrutto tutto, invece no, il problema reale era appunto perché non si capiva cosa avesse. In poche parole mi si era accorciata e rigidita la catena muscolare a tal punto di non riuscire più a sovraccaricare. Ed è causato tutto da un dente che mi ha cambiato la masticazione e il modo nuovo di lavorare dei muscoli mi aveva portato a bloccare. E quindi, in conseguenza, io non riuscivo più a spingere con una gamba, non riuscivo più a caricare sulla gamba destra. Per te, Salvatore, questa è la seconda avventura in bianco verde. Eri già arrivato la scorsa estate, poi sei andato via a gennaio proprio per questi problemi. A gennaio si è innescato un botta e risposta tra il tuo entourage e il presidente Taccone, un po' sgradevole. Però lo stesso presidente Taccone ha speso poi grandi parole di elogio per te già nel corso del ritiro di Cascia. Io immagino che tu, se sei qui, è perché hai avuto modo di chiarire con lui e di appianare queste divergenze. Anche quello sgradevole scambio di botta e risposta a suoni comunicati anche. Sì, ci siamo già chiariti, come hai detto te. Anche il fatto che mi abbia ripreso dopo un anno di inattività dimostra la sua fiducia nei miei confronti. In quell'occasione lì gliel'ho detto che poteva dire qualcosa di diverso, però si sbaglia nella vita. L'importante è chiarirsi e l'ha fatto nel migliore dei modi riportandomi qua. Tra sacro e profano, abbiamo detto del 17, del 13, tredicesimo acquisto, quindi un pizzico di scaramanzia. Io però che c'ero a Cascia a seguire il ritiro ti ho visto anche, perdona l'invadenza, pregare in solitaria nella Basilica di Santa Rita. Il tuo rapporto con la fede? Io sono molto credente, tantissimo. Ho fatto più di un pellegrinaggio a Meggiugorie, prima non lo ero. Mi sono avvicinato dopo che mia sorella a livello di salute non è stata benissima. Mi sono avuto dei problemi, tanto per cambiare. E quindi lei era già andata a Meggiugorie, allora ci teneva che andassi anch'io. Dal momento che, come ho detto, non era stata bene tutto, quindi ho detto va bene, per te lo faccio. Sono andata a Meggiugorie e da lì non posso dire di aver visto o fatto niente, però sono tornato e mi sono avvicinato alla fede in modo totale, cioè mi sono messo nelle mani di Dio. Noi andiamo da un argomento all'altro, saltiamo da argomenti anche seri e molto intimi come questo del tuo rapporto con la fede, a Molina e i social network. Ti vedo molto attivo su Facebook, un po' di meno su Instagram. I calciatori ormai ne fanno quasi abuso dei social network, raccontaci un po' invece il tuo di rapporto a questo punto. Ti dirò, io ero molto attratto dai social, specialmente Instagram. E il fatto che avessi sempre il telefonino in mano era arrivato a darmi fastidio, perché vedo che non c'è più comunicazione tra di noi. Al che ho detto basta, tolgo tutti i social. Le avevo tolto anche Facebook, tutto. Poi ero a Perugia, ero arrivato da poco e non avevo ancora tutto questo grande legame con i miei compagni, perché arrivando a Gennaio ero a casa, mi stavo annoiando e ho rimesso Facebook, però facendomi una promessa che non sarei stato perennemente col cellulare in mano. E così è stato, lo uso, però prima era di avere una malattia, appena avevo un attimo libero telefono in mano. E quindi questo è il motivo per la quale non ho più Instagram e per la quale ho voluto eliminare tutto. Su Facebook comunque tantissime foto che ti ritraggono con la tua famiglia. Prima ci hai già dato un piccolo accenno sulla tua famiglia, su tua sorella. Portaci un po' a casa Molina, raccontaci un po' la tua famiglia che immagino abbia averti un ruolo fondamentale. Sì, se sono il ragazzo che sono è solo ed sicuramente grazie a loro, in primis i miei genitori e poi le mie sorelle perché noi due. Noi siamo una famiglia molto unita, molto legata, senza invidia l'un con l'altro, anzi ci amiamo follemente l'un con l'altro. Ho due bellissimi nipotini, bravissimi, dati da una sorella e dall'altra e come tutte le famiglie ci sono i problemi ma li abbiamo sempre superati con grande tenacia e con grande forza. Siamo con l'aiuto degli altri perché da soli non ci si fa a fare nulla, però non abbiamo mai mollato. Siamo una famiglia che sappiamo quello che vogliamo e i miei genitori soprattutto ci hanno insegnato a me e le mie sorelle di raggiungere i propri traguardi con i sacrifici, con il lavoro. Queste sono solo le parole e le cose che ci ha insegnato mio padre. Molto bello questa immagine che ci ha dato della tua sfera intima, familiare. Io ti vedo anche molto attento con i più piccoli di casa per quanto riguarda l'alimentazione. Questo è un tema importante, tu che sei un atleta sai che ci si deve alimentare per stare bene, di salute, a prescindere in un determinato modo. Tu sei molto vigile anche, così sei protettivo nei loro confronti. Sì, io sono molto protettivo perché mi rendo conto quanto fa bene mangiare in un certo modo piuttosto che in un altro. Detto questo non voglio passare per il santo di turno perché non seguo la lettera, l'alimentazione, cioè sgarro. La mattina la brioche con la nutella me la mangio anch'io, cioè non voglio passare adesso per il salutista, per il buon samaritano, per tutto. No, però con questo bisogna avere secondo me nella vita in tutto un po' di elasticità, né l'esagerazione verso una parte né verso l'altra. Di certo non faccio abuso di alcol, tendo a non usarne proprio, zero, ma nello stesso tempo neanche mi privo di qualche dolce o mangio alla perfezione come dovrei fare perché magari è un mio limite. Però io penso che sia giusto ogni tanto anche sgarrare su qualcosa. Adesso diventiamo proprio molesti per quanto riguarda la tua sfera privata, fidanzata, compagna. Raccontaci un po' il Molina in amore. E qua questo è un tema abbastanza delicato. Diciamo che in questo anno passato proprio non avevo tutto in testa tranne che trovare la ragazza. Sono single e... Un appello alle ragazze vellinesi, però basta che non lo distraete troppo dal campo. Sono un ragazzo esigente, non mi sono mai accontentato, quindi fin quando non la trovo come dico io, non mi accontento stare insieme a una ragazza per comodità, per riempire la mia solitudine, perché è evidente che vivendo da solo così momenti di solitudine ci sono, non mi serve. Preferisco piuttosto stare da solo, piuttosto che riempire le mie giornate con una ragazza accanto che non ha. Salvatore Molina, nato il primo gennaio 1992 a Garbagnate milanese, che cittadina è? Se c'è un motivo per visitarla e che motivo c'è? Ma è una cittadina, un paesino di 25.000 abitanti, quindi è abbastanza abitata, abbastanza popolata. Niente di eclatante, nulla di così fantasioso. Però per me, la mia infanzia, ho tutti, i miei amici, appunto come abbiamo parlato della mia famiglia, ho tutto. Per me lì c'è tutto, però per uno che viene da fuori non c'è così tanto, se non l'Alfa Romeo lì vicino, se non il centro commerciale più grande d'Italia, mi sembra che sia lì ad Arese, che è nei confini Arese-Garbagnate, c'è stato lì vicino a Rolex Po, quindi la zona lì è abbastanza viva. Garbagnate in sé è non più di tanto. Però ringrazio Giuseppe Andrita, sempre attentissimo a questi risvolti e a tutti questi particolari. Garbagnate milanese è il paese dove sono nati in un certo qual senso gli articoli 31. Ti faccio una domanda, insomma, se hai avuto modo di conoscere qualche componente degli articoli 31 e poi cosa non può mai mancare nella tua playlist? Allora, riguardo all'articolo 31, sì, il DJ di Garbagnate, quindi erano molto seguiti. Non è proprio il mio genere di musica perché io sono un fanatico di Adriano Celentano che vedendo la mia carta d'identità diventa difficile pensare che possa essere attratto da un cantante degli anni 40, 50 e quindi è difficile, però io sono molto attratto da lui, dalla musica italiana in generale, ma anche la musica latina, reggaeton, mi piace. Però su tutti a me Adriano Celentano. Una canzone preferita allora di Adriano? Ce ne sono tante, però forse se te ne ho di dire una su tutte, l'emozione non ha voce. Benissimo, allora useremo anche come colonna sonora, magari per qualche servizio su di te. Con Avellino invece il tuo rapporto com'è? Avellino Città intendo quali luoghi frequenti, se ti piace e ti trovi a tuo agio. Eh, è ancora presto per fare valutazioni, sono solo qui da un mese, però in questo mese, per quanto ho vissuto poco, perché al momento sono ancora al Miriam in attesa che mi venga liberata la casa, perché sto aspettando questo. Sto facendo molto campo, Miriam, Miriam, campo, ho vissuto poco. Ho fatto due giri in centro, nel corso pedonale, ed è molto carina, però io non sono venuto qua in villeggiatura, per me quello che mi interessa, quello che mi preme è questo, il campo verde, e quindi ci può essere anche la cosa più bella del mondo, ma io sono venuto qua soprattutto per dimostrare in quel campo lì. E quindi com'è che ti piace trascorrere il tuo tempo libero? Il mio tempo libero c'è più di un hobby, quando a me piaceva molto, però questo più prima, andare a pesca, negli ultimi anni l'ho trascurato un po', mi piace guardare la tv, gli sport, quasi tutti, mi piace stare in compagnia di amici, mi piace leggere un po' meno, questo aspetto qui do a migliorare, mi piace ascoltare la musica, questo sopra le altre cose. E adesso andiamo a tavola con Salvatore Molina, il piatto tipico di Garbagnate milanese, la tua pietanza preferita, e se hai avuto già modo di provare invece qualche specialità gastronomica o enogastronomica erpina. Allora, la pietanza tipica garbagnatese, mia mamma è calabrese, quindi mi fa mangiare più pietanze, pietanze più meridionali, quindi ti dirò, poi nulla da togliere a quelli del nord, mi ci metto anch'io perché sono nato là, però la cucina meridionale è tutta un'altra cosa, quindi magari la cotoletta, la milanese, però tendo più a mangiare sempre meridionale con la cucina, invece un cibo tipico irpino, no, ancora non l'ho provato, ti direi una bugia, perché ho mangiato la mozzarella di bufala, ma è più di battipaglia, no? Sì, esatto. Quindi, no, anzi aiutami tu a dirmi qual è il cibo tipico. E allora lanciamo un invito magari per una soppressata, qualche salume tipico da far assaggiare, anche un tartufo di bagnoli, ci sono tante eccellenze, poi avrai modo di scoprire, però manteniti sempre leggero perché sulla fascia... No, sì, ti ho detto, sono abbastanza, cioè non mi sbilancio troppo da una parte né dall'altra, quindi assaggio ma senza esagerare. Vabbè, quindi di nascosto ti passeremo qualche soppressata sotto banco, diciamo così. Salvatore, tornando a te invece, calciatore, quando hai capito che saresti diventato calciatore e quale figura è stata fondamentale nel tuo percorso per diventare professionista? Ti dirò, io nel settore giovanile non ero tra i più considerati, ero anche in una squadra di bei giocatori, da Baselli a Swager, nella mia squadra c'erano più di un Minotti, non so se Gatto, erano una squadra forte e io non ero tra i più considerati, fino a allievi primavera non ero tra i più considerati, se ero arrivato a nove anni all'Atalanta. Però avevo voglia, avevo fame, che è quella che cerco di non perdere mai ancora oggi. In ogni allenamento, in ogni partita, in tutto quello che faccio cerco di farlo al mille per cento, tutto. E questa è la forza che mi ha portato ad arrivare tra i professionisti. e quindi fino alla primavera io vedevo la prima squadra, la Serie C, il mondo professionistico come miraggio, una cosa assurda. Fino a quando sono andato a Foggia il primo anno, in Serie C, e gli ho detto, però ci posso stare in Serie C. quando poi sono andato a Modena e feci molto bene, lì, vabbè, ero già più consapevole dei miei mezzi. Ma proprio forse dopo l'anno della primavera, quando andai a Foggia lì, ho acquisito più autostima, più consapevolezza dei miei mezzi. Fino a lì sono sempre stato abbastanza abbastanza duro con me stesso. Cioè che dovevo fare molto di più perché così non ci avrebbe fatta, molto di più perché c'erano giocatori molto più forti di me. Dico, se sono questo, sono normale, io devo fare di più. E quindi questa cosa qui mi ha portato ancora oggi, perché non sono un fenomeno, c'è gente molto più forte di me. Quindi dico, se io voglio arrivare davvero là in alto, non lavorare di più perché se lavoro come gli altri non ci arrivo. Questa è stata la mia forza. Però che sei bravo, se ne sono accorti anche i selezionatori della Nazionale, una decina di presenze tra Under 20 e 21, l'emozione di indossare la maglia azzurra. Ti dirò, ho indossato diverse maglie di club, tante, tra cui quella della prima squadra dell'Atalanta che era il mio sogno da bambino arrivare in Serie A e il fatto che l'abbia indossata a nove anni e rimetterla in prima squadra per me è stato qualcosa di pazzesco. Ma la maglietta azzurra per me è un valore sopra ogni cosa. Per me sono molto patriota, sono molto legato alle nazionali italiane. Quindi, se già di mio ti ho fatto capire che a livello caratteriale sono uno che tende a dar tutto, cioè prima di mollare devo essere sfinito con quella maglietta lì. Cioè, la maglietta azzurra per me vale tantissimo. Rappresento la nazione. Salvatore, Foggia, Barletta, non posso andare a braccio se non la dimentico qualcuna. Modena, Atalanta, Carpi, Cesena e Perugia. Lungo peregrinare, lungo lo stivale per quanto riguarda la tua carriera. Hai qualche aneddoto da raccontarci riguardo a queste tue esperienze? Anche qualcosa magari di simpatico che ti porti da queste tue avventure? Ma adesso così sui piedi mi è difficile ricordare un aneddoto particolare, ti dico la verità, ovvio. Se stiamo un attimo qui a pensare, però non penso che i telespedatori abbiano tutto questo tempo, mi vengono in mente, perché figurati, sei anni, sette anni, mi vengono in mente. però adesso così in attimo non mi vengo. Però a Modena hai conosciuto Walter Alfredo Novellino, che è stato fondamentale per te in quella stagione strepitosa col Modena e anche per il tuo ritorno ad Avellino. Sì, mister, che devo ringraziare tantissimo perché mi ha lanciato in un campionato di Serie B dove la notorietà è più importante rispetto a un campionato di Lega Pro e soprattutto mi ha rivoluto qua dopo un anno di inattività, dopo tanti dubbi su di me, quindi lo ringrazierò per tutta la vita. E anche il gruppo ti ha accolto alla grande, a Cascio, davvero ti ha accolcolato, erano tutti molto felici del tuo ritorno e di vedere che stavi bene, che eri bello lì, pimpante. Il tuo punto di riferimento nello spogliatoio è il più pazzo dello spogliatoio, anche se qualche sospetto già ce l'ho su chi possa essere. Allora, riguardo all'accoglienza ti dirò, anche dopo le partite che ero venuto a vedere l'anno scorso a Verona, a Novara, il gruppo lì mi chiese ma come stai? Riesci a venire? Cioè, avevo voglia di avermi qui, quindi già l'anno scorso avevo percepito questo calore da parte loro. Poi quest'anno l'hanno riconfermato e quindi li ringrazio tantissimo. Per quanto riguarda il più pazzo, ma ti dirò, è un gruppo abbastanza equilibrato, poi c'è quello più più ironico, però pazzo, cioè divertente, diciamo. Cioè divertente Laverone, Ardemagni, ce ne sono più di uno, però non folli, cioè simpatici, questo è il termine giusto per descriverlo. Ardemagni, hai tornato a pennellare dei palloni per la sua testa come ai tempi del Modena e quindi l'inizio è stato positivo. Però ritorniamo un attimo alla scaramanzia invece per quanto riguarda questa intervista. Del numero 17 abbiamo detto, hai dei piccoli rituali prima di entrare in campo, delle cose che fai prima della partita in maniera metodica, così. No, io, l'uniche, l'uniche mie abitudini sono lavorare tanto prima dell'allenamento e come potuto notare oggi perché dovevamo iniziare molto prima è finito l'allenamento. Io lavoro tantissimo prima e in settimana. Poi quando arrivo il sabato devo aver già tutto fatto e non sono tanto per la scaramanzia, anzi, sono più per mettermi nelle mani come ti ho detto prima del Signore. E infatti sta facendo buio tramonto con Salvatore e Molina potremmo intitolare questa prima puntata di Nellatana con i lupi. Noi ci abbiamo allora la chiusura a questo punto Salvatore chiedendoti tutti i debiti scongiuri ovviamente si pensa partita per partita ma facciamo una promessa se mai l'Avellino dovesse arrivare in Serie A. Caspita, ti dirò io sono uno più con i piedi per terra. A me mi piace darmi un punto e con il lavoro arrivarci però non voglio nello stesso tempo alzare le ali prima del dovuto quindi magari se siamo sopra alla trentacinquesima giornata trentesima ci rivediamo e ti dico ok sta quasi per avverare diamoci un una un qualcosa da fare in caso di vittoria però ad oggi è ancora assurdo prima che che poi dopo ci si aspetta cose assurde dopo quando oggi è da folli pensare certe certe cose pensiamo giornata dopo giornata pensiamo giorno dopo giorno e poi vediamo quello che avviene io ringrazio Salvatore Molina dal Partenio Lombardi è tutto per questa prima puntata di Nella Tana coi lupi vi auguro buon proseguimento con la nostra programmazione e ringrazio ancora una volta Salvatore Andrea Molina grazie a voi grazie a voi buonasera a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti